fratelli miei cari buongiorno a tutti che giornata magnifica ma che giornata magnifica per chi mi segue su instagram che andatemi a seguire su instagram guardate il delirio che ho combinato ieri il delirio finalmente gesù ha guardato e mi ha toccato finalmente seguitemi su instagram ragazzi mi raccomando il pendolone per chi gioca le schedine ovviamente perché vi ricordo chi gioca le schedine non è ludopatico basta usare il melone quindi per me è una passione io non sono mai stato uno che ha fatto debiti ha giocato cifre esorbitanti e non ho neanche vinto cifre esorbitanti la cifra che ho vinto ieri è stata la più grande in vita mia vinta quindi andatemi a seguire le storie che ho messo ieri sera su instagram non vi spoilerò niente qui su youtube ovviamente così magari riusciamo anche a crescere un pochettino di più su instagram ma ma tra lascia oggi è una bellissima giornata perché mi ha risolto un mese quello che è successo ieri più di un mese anche me l'ha risolto proprio riesco a respirare riesco a ridere non c'ho neanche caldo ci sono 25 gradi i finestrini alzati su non neanche caldo benissimo ragazzi sono veramente una pasqua ma poi siamo alle cose seriche magari queste cose qua non vi interessano dunque io ho un quesito da porvi e che mi avete già posto voi a me un quesito che sinceramente non è molto difficile da risolvere non è molto difficile a cui rispondere non è un quesito difficile a cui rispondere che è la questione europa league andare avanti in europa league o evitare che i cartonati ci battano nel derby e ci alzino lo scudetto in faccia allora per come la vedo io ragazzi io la penso da milan e dico si possono fare tranquillamente tutti e due si possono tranquillamente fare tutti e due cioè non è mai capitato che noi andassimo a roma a vincere 2 a 0 3 a 1 io non visto dallo stadio la settimana scorsa quel milan lì se si presenta ancora a roma così prende le mazzate a roma cioè già ve lo dico e lo stai neanche a dirlo quello col sassuolo però c'è da dire una roba questa squadra qui ci ha abituato ci ha abituato ogni volta che si dà che si dava per spacciata a dei colpi di coda clamorosi adesso non sto qui a farvi tutti gli esempi però io dico sono cose che si possono fare tranquillamente tutti e due perché visto quello che è successo domenica sera con intercagliari abbiamo due risultati su tre contro l'inter e poi dobbiamo recuperare un 1 a 0 in casa con la roma dove sta la verità la verità sta nel gioco della squadra la verità sta nell'allenatore che ormai è diventato un fattore un allenatore che non cambia mai niente in corso ma questa è una roba che io vi dico da ma forse da più dell'anno scorso quando prepara una partita in un modo può cascare anche il mondo quella quella è quella è così vai dritto fino alla fine voi fateci caso alla partita l'ultima partita col sassuolo cosa è successo l'ultima partita col sassuolo che avevamo tre giocatori lenti in difesa kier ciao e a destra florenzi se la doveva vedere con una lippa come laurente cosa è successo la difesa a centrocampo quindi la stessa identica cosa come nel derby d'andata dove ciao fu preso in velocità da turam e tanti saluti quindi due difensori lenti tu me li tieni appena appena un po più bassi giusto per dirne una giusto per dirne una però quindi se c'hai tomori e calulu fai un tipo di gioco se c'hai ciao e kier fai lo stesso tipo di gioco quindi questo potrebbe essere un fattore se si mette veramente in testa quest'uomo qui magari nelle ultime perché io credo che queste qua debbano essere le ultime due partite di pioli le ultime partite di pioli dalle nature del milan ma come vi ho sempre detto è una roba non scontata perché io anche oggi ho le parole di furlani si furlani dice sempre mezza tira la coperta da una parte ma la scopre dall'altra perché perché non dice mai niente obiettivamente non dice mai niente è una brava persona ma è che è una brava persona non mi interessa pioli che è una brava persona se questo quasi sta dimostrando un ottuso che non cambia niente che infortuni lasciamo a parte gli infortuni perché tanto è una roba trita e ritrita abbiamo già parlato ma se questo qua è talmente ottuso che poi dopo va in conferenza stampa e io già me lo voglio sentire domani sono molto curioso domani di aspettare le parole in conferenza stampa di pioli perché secondo me dalla settimana scorsa a questa settimana qua dove ti giochi per l'ennesima volta la vita non cambierà niente non cambierà niente quindi l'unica l'unica nostra speranza è che quello smetta di fare tutto questa come si dice tutta questa cocciutaggine se la lasci stare alle spalle e provi ad ascoltare quello perché non ci credo che la squadra non gli abbia detto niente che non gli dica niente lo seguo soltanto io non ci credo che non abbiano dei batti becchi questi qua negli spogliatoi non ci voglio credere ok quindi è una roba che io se dovessi mai scegliere andare avanti in europa league obiettivamente andare avanti in europa league ti lascerebbe comunque un altro spiraglio per andare ancora ulteriormente avanti in europa magari cercare anche se secondo me non capiterà mai di vincere un trofeo questo è quello che c'è secondo me non può mai capitare questa roba qua proprio per pioli proprio perché io mi immagino mi immagino ogni volta che ha un dentro fuori un testa a testa una partita secca pioli scacazza troppo scacazza troppo fuori dal vaso ragazzi detto proprio in francese scacazza troppo fuori dal vaso io ve li ho fatti gli esempi la settimana la settimana scorsa in qualche video settimana una settimana fa con l'inter con la juve col dortmund mi ero dimenticato contro il borussia dortmund ve lo ricordate se vincevamo quella partita lì andavamo avanti in champions contro il borussia dortmund però cosa è successo anche lì sbaglia l'approccio 1 a 3 per il borussia dortmund in casa san siro io ero presente è stata l'unica partita ve lo giuro è stata l'unica partita da quando vado a san siro ovvero da 25 anni dove io sono uscito prima del fischio finale quindi obiettivamente io voglio evitare sia di uscire con la roma e sia di fargli vincere a quelli là lo scudetto che è una roba che si può fare tranquillamente ma puntini 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 detto questo ho sentito anche molti che mi chiedono con chi giocheresti ragazzi qua però c'è da fare un disco un altro discorso serio su girù perché molti sento tutti dire non lo voglio più vedere è in forma pietosa per quale motivo perché ha sbagliato due gol in quelle due partite ok però tutto quello che c'è stato prima di girù non si può dimenticare di rubricare in una maniera così sterile così povera direi sei in una sei in una fase sei in una condizione aberrante io ti lascerei in panchina farei giocare ocafor ma voi vi immaginate uno smalling che tiene ocafor ocafor si è un giocatore che comunque molto che svaria sul fronte però obiettivamente quando c'è un uno contro uno dal punto di vista fisico smalling che prende ocafor fa un solo un solo boccone quindi io con la roma farei giocare girù tanto già lo sappiamo che ce ne dobbiamo separare queste queste state da girù è anche giusto che giochi lui e spero vai ocafor per ocafor io spero che ci sia un'occasione a partite in corso magari non all'ottantesimo la cosa che cambierei parecchio la cosa che cambierei anzi non parecchio sicuramente è io farei stare fuori l'off to chic ragazzi vi dico la sincera verità perché un ciucuweze come quello di adesso farlo stare fuori è difficile se non impossibile e pulisic dove lo metti lo metti quello è un fenomeno quindi nella stessa identica partita con lecce quella deve essere la formazione quella deve essere la formazione non si scappa da lì quindi tomori che rientra dalla dalla squalifica gabbia che per il momento è il nostro miglior centrale e guardate io cosa a qualche punto sono arrivato teo hernandez calabria sulla destra in porta ovviamente magnan se mai dovesse recuperare perché ancora notizie di magnan in gruppo non ne ho reinders è uno tra alla fine io metterei benasser però deve c'è benasser è quello che ci sta veramente mancando in questo finale di stagione secondo me quello che ci sta mancando veramente più di tutti è ismail benasser poi davanti c'è anche l'imbarazzo della scelta se vuoi girù prima punta leao pulisicuweze questa è la formazione più corretta ad andare a schierare a roma è quella detto ciò ragazzi voi fatemi sapere cosa ne pensate con chi giochereste se siete d'accordo cosa scegliereste voi se andare avanti in europa league o evitare o evitare che loro vincano lo scudetto davanti a noi secondo me non c'è paragone perché tanto lo scudetto loro lo vinceranno sicuramente ovvio se me lo vincessero in faccia un po di fastidio me lo darebbe però io penso soltanto al milan che non penso a loro che vincono perché tanto quei vincano è scontato fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando continuate a scrivere al canale un bel like il commento io rispondo sempre a tutti un bacio ciao a tutti e seguitemi su instagram ciao